Disagi in vista per i tarantini che utilizzano i mezzi pubblici dell'AMAT, infatti i sindacati di categoria dei trasporti hanno indetto uno sciopero di 4 ore per la serata di sabato 18 gennaio dalle 20 alle 24, 4 i punti alla base della protesta, la scarsa qualità delle relazioni sindacali, il mancato rispetto del programma di esercizio e la discutibile gestione delle risorse e ancora la sicurezza dei luoghi di lavoro e le problematiche degli impianti fissi. Tendo a sottolineare che lo sciopero è stato appunto proclamato di sabato in fascia oraria serale proprio per cercare di ridurre al minimo quelli che saranno i disagi per la cittadinanza e per l'utenza, però i lavoratori e le organizzazioni sindacali avevano la necessità quanto mai in questa fase di dare un segnale forte alla direzione aziendale di modificare determinati atteggiamenti che appunto mettono i lavoratori in difficoltà, le organizzazioni sindacali vogliono quanto prima rimettere in ordine subito questa questione.